Una delle domande che ricevo più spesso è ma se tu ripartissi completamente da zero Faresti tutto quello che hai fatto? Faresti qualcosa di diverso? Cosa faresti nello specifico? E quindi ho pensato ma perché non farci un video proprio su questo argomento? Quindi in questo video vedrai esattamente tutti i passaggi che farei se partissi nuovamente completamente da zero Ma ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale Io sono Jan e quest'oggi andremo a vedere proprio questo Quindi tutti i passaggi che secondo me dovreste fare o comunque io rifarei Per ricominciare da zero tutte le attività che comunque sto portando avanti online Ma non perdiamo altro tempo e partiamo subito con il video perché sarete sicuramente molto curiosi E quindi la prima cosa fondamentale da fare secondo me è abbassare tutte le spese Se non state guadagnando niente cosa dovete fare? Abbattere le spese Ovviamente le cose fondamentali come il cibo, le cose comunque essenziali non potete toglierle Però se magari siete in affitto o abitate da soli la prima cosa da fare che cos'è? È magari suddividere l'affitto con qualcun altro Quindi trovare un conquilino, magari cambiare casa, andare in una casa meno costosa Comunque l'obiettivo è abbattere tutte le spese inutili anche Quindi magari gli abbonamenti Se siete normalmente abituati a comprare cose che non sono comunque connesse alla vostra sopravvivenza Evitate di farlo Magari non uscite fuori per un po' e così via Una volta aver abbassato tutte le spese e quindi le uscite dovete aumentare le entrate Ma prima di andare a vedere come aumentare le entrate Mi raccomando lascia un like a questo video perché è super importante Lascia un like E soprattutto iscriviti per vedere nuovi video di questo genere Contenuti simili Anzi se hai qualche consiglio scrivilo nei commenti Prossimamente sempre su questo canale La prima cosa per aumentare le entrate che farei è vendere le cose che ho in casa ma che non possiedo Quindi se magari ho qualche videogioco vecchio Magari che ne so cose che potrei vendere facilmente ma che non utilizzo Tutte le cose in più le venderei Magari su subito.it Ci sono anche altri siti tipo Vinted se non sbaglio Comunque ce ne sono un bel po' O potete venderli semplicemente alle persone che conoscete Ad amici gli dite guarda sto vendendo questo computer Sto vendendo quest'altra cosa Sei interessato? Sì? No? Perché? Dimmelo E una volta aver venduto tutti gli oggetti che avete a vostra disposizione Che appunto vi avanzavano Il prossimo passo che utilizzerei è quello di utilizzare i soldi fatti per i bonus delle applicazioni Ci sono un sacco di bonus Anzi vi lascio qualcosa qui in descrizione Come ad esempio se non erro c'è quello di Revolut Che vi da tipo 40 euro Poi ci sono altre carte, applicazioni, comunque cose varie E magari solamente da queste cose potete anche tirar fuori quei 200-300 euro a testa Quindi lo fate fare anche ai vostri parenti, ai vostri genitori Amici vi tirate fuori un bel po' di budget per iniziare un qualcosa Un'altra cosa che puoi fare dopo aver fatto i bonus è comprare delle cose usate E rivenderle a un prezzo maggiore Qui c'è comunque un po' più di lavoro Ma comunque su subito si trovano un sacco di cose O gratis che persone magari vogliono semplicemente liberarsene Magari divani, armadi, cose strane che normalmente nessuno comprerebbe magari Ma che potreste rivendere anche a pochissimo Magari trovate un divano a 0 euro giusto perché vogliono liberarsene Voi lo sistemate, lo lavate, lo vendete a 25 euro Vuoi che uno non ve lo compri a 25 euro? Dai, parliamoci chiaro Ci sono un sacco di comunque marketplace anche su Facebook Gruppi dove si regalano queste cose Voi li acquistate e li rivendete Quindi una cosa molto molto semplice Oppure la cosa più semplice e basica possibile Trovatevi un lavoro normale Magari non un lavoro a cui normalmente voi aspirate Quindi il vostro lavoro dei sogni Ma un lavoro che non richiede skill Non qualcosa di comunque molto manuale Che tutti potrebbero fare Per magari il primo mese, il secondo mese Tirare fuori qualche migliaia di euro Da tenere da parte E comunque magari avviare un qualcosa di più serio più avanti E nel mentre sopravvivere grazie alle spese L'affitto e cose varie Quindi piccolo riassunto Vendete tutte le cose inutili Fate i bonus delle applicazioni Trovatevi un lavoro tranquillo Che magari vi permetta di guadagnare qualcosina E subito dopo come prossima cosa Io inizierei a monetizzare le mie passioni Quindi ad esempio non so Avete la passione per il videomaking Trovate qualcuno a cui serva montare i propri video Fate un video su youtube dove spiegate come montare un video Fate un corso Fate un profilo su instagram dove spiegate alle persone come fare Vi piace il giardinaggio? Fate video sul giardinaggio Vi piace non lo so il mondo della gelateria? Fate un profilo instagram su quello Comunque cercate di monetizzare le vostre passioni Ma soprattutto create un personal brand sulla vostra immagine Perché sicuramente in futuro vi sarà utile Tramite questo metodo voi non guadagnerete sin da subito? Assolutamente no Normalmente magari ci mettete anche un anno Per iniziare a vedere i primi euro da youtube I primi euro dai social, le sponsor, le affiliazioni Ma comunque inizierete a creare un qualcosa di solido nel tempo Quindi una di quelle entrate che nel tempo vi ripagherà maggiormente Non solo a livello monetario ma proprio a livello di tempo e rendimento Quindi magari dedicate poco tempo ma vi rendono tanto Un'altra cosa che farei dopo aver fatto un po' di budget È quello di investire parte di questo budget in me stesso Per aumentare effettivamente il mio valore Acquisirei delle skill magari di produttività, organizzazione Per saper fare tutto durante la giornata Inizierei comunque a mantenermi ovviamente sempre in forma Perché se no potete lavorare quanto volete Cercare di creare 18 business diversi Ma se non state bene non ve la godete Quindi magari non so Correte tre volte a settimana Vi impiega mezz'oretta e avete fatto Comunque fate qualcosa per il vostro corpo E poi spendete soldi in libri Se non avete soldi da spendere in libri Cosa fate? Comprateli online magari a un prezzo minore Ci sono anche siti che non pagate libri Dai non avete scuse Non avete scuse Abbiamo un sacco di cose online Avete la possibilità di cercare qualsiasi argomento su Google Su YouTube Avere video perfetti su YouTube Su ogni argomento Cioè veramente voi pensate a come smontare una vite Di dimensione di 60 mm e così via Cercate su YouTube e c'è C'è tutto Anche i libri li trovate I riassunti dei libri su YouTube Comunque non avete scuse Iniziate ad acquisire skill importanti Concentratevi soprattutto sulle skill altopaganti Quindi quelle skill che in un futuro potrete monetizzare E iniziare a guadagnare anche da quelle Un'altra cosa che farei soprattutto dal punto di vista personale È quello di circondarmi da persone che mi supportano Persone in gamba Persone comunque di successo Successo non intendo dire che per forza Facciano 3.000 euro al mese 5.000 euro al mese 10.000 30.000 60.000 euro al mese Quindi persone che difficilmente trovate così per strada Ma persone che non vi buttano giù Persone che vi supportino Persone che vogliano il meglio da voi E poi come ultimo step Non investirei i miei soldi Perché comunque se non avete skill importanti Avete pochissimi soldi È meglio concentrarvi su qualcos'altro Ma la prima cosa che farei È avviare un business Guardandomi attorno però Fare business è davvero un mondo molto solitario E fare networking in realtà è davvero super importante Quindi tra tutti i business Ad esempio non so Investire in crypto All'inizio eviterei Magari investire nel forex ci sta Ma comunque solo se hai un supporto dietro Dropshipping Anche quello eviterei Ci sono 3.500 euro solo da pagare all'Inps così Dopo i primi 30 giorni di attività Per farti capire Quindi se non hai soldi cosa fai? Apri partita IVA sin da subito così Senza avere delle comunque certezze Non andate bene nel dropshipping Dovete aprire partita IVA lo stesso E pagare 3.500 euro subito Cioè non ha senso La cosa migliore che farei Almeno io personalmente È entrare all'interno di un network Perché semplicemente C'è un investimento vastissimo da fare La tassazione in Italia È comunque molto facilitata Per chi fa network E soprattutto avete la possibilità Di ricevere formazione Che normalmente nel mercato Paghereste oro O comunque non trovereste Quasi gratuitamente Quindi avete la possibilità Di migliorare proprio un sacco Personalmente Diventate delle persone migliori Imparate delle skill Molto importanti Come ad esempio Parlare in pubblico Come ad esempio Aumentare la propria Comunicazione in generale Si impara anche L'arte della vendita Anche come puoi diversificare In diversi modi Si imparano un sacco di skill Che sicuramente Ci saranno utili Per tutto il resto Della nostra vita E soprattutto Possiamo iniziare All'interno del network Con pochissimo budget Quindi dropshipping 3500 euro Io direi di buttarli via Crypto Magari se avete un budget Basso Potete perdere tutto E poi magari Stopparvi la Network In pratica È un investimento sicuro Perché se vi va male Avete imparato Un sacco di skill Utili Quindi io personalmente È quello che farei Poi il network Lo utilizzerei Come trampolino di lancio Quindi non mi fermo Assolutamente lì Quello è solo l'inizio Vi dà la possibilità Ad esempio Di accumulare capitale Per poi creare Magari una vostra azienda In futuro Quindi inizierei A concentrarmi Sul network Creare magari Un mio team Iniziare magari In un'azienda Adatta al 2022 Che offre Un servizio interessante Poi man mano Che andrei avanti Delegherei Molti aspetti Per liberarmi Molto tempo Durante la giornata E inizierei A diversificare Quindi magari Ho creato Un'entrata Già abbastanza importante Di circa 1000 1500 euro Dal network Se non di più Ovviamente Ci vuole tempo Ci vuole impegno No nessuno Regala niente a nessuno Ma comunque Dopo essere arrivato A un livello del genere Inizierei A delegare Appunto E a diversificare Magari diversificare Con investimenti a lungo termine In ETF Qualche piano di accumulo In crypto Forex Un sacco di cose Però ovviamente Una volta che hai Il giusto capitale Ti si aprono davanti a te Un sacco di porte E magari Grazie al network Inizierai a fare dropshipping Magari nel network Hai trovato persone in gamba Che fanno dropshipping Inizierai un progetto con loro Magari avverai una tua azienda Di consulenze Con le skill imparate All'interno del network Magari inizierai a vendere Prodotti altopaganti Comunque prodotti Da 2000-3000 euro l'uno Ad aziende A comunque Attività commerciali Secondo me Il network È solamente l'inizio Ma è il miglior business Per iniziare Perché ha davvero Barriere di ingresso Molto molto basse E molto facili Da abbattere E poi ovviamente L'ultimo passaggio Qual è? Guadagnare sempre di più E conquistare il mondo A parte questo finale Un po' divertente Quello che farei È proprio questo Quindi utilizzerei I lavori tradizionali Per creare budget Utilizzerei tutti i bonus Vendere cose che non utilizzo Per creare un po' di budget Avvierei Una mia attività online In questo caso Io farei network Voi magari fate Quello che volete Non vi obbligo a far nulla Semplicemente sto Condividendo Quello che farei io E poi una volta Aver creato comunque Un'entrata importante Dal network Diversificherei In vari settori Per appunto Conquistare il mondo Io all'inizio del mio percorso Ho avuto un sacco di difficoltà Comunque ad orientarmi Vedevo attorno a me Un sacco di business Come comunque vi ho detto Ad esempio Dropshipping Crypto Shitcoin NFT Metaverso Un sacco di cose E quindi prima di buttarmi Effettivamente in qualcosa Ho voluto testare un po' di tutto Approfondire ogni singolo settore E quindi Oggi So qualcosina Di ogni settore Esistente al mondo Quindi se anche tu Magari stai partendo Completamente da zero Vorresti avviare qualcosa online Ma non sai effettivamente Che cosa fare O comunque Da dove iniziare Nel caso Scrivimi su Instagram Così chiacchieriamo un po' E vedo se posso aiutarti In questa scelta Ah si Mi raccomando Link in descrizione Nel caso Ma comunque Per questo video è tutto Spero che ti sia piaciuto Se ti è piaciuto Mi raccomando Lascia un like E soprattutto Iscriviti a questo canale Per rimanere aggiornato Con nuovi contenuti Di business e crescita personale Ogni martedì alle 14 E ci rivediamo Molto presto Ciao